Allora facciamo qua invertita No 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 se non è là non capirò mai perché hanno fatto questa cosa Ma io so dov'è Io so dov'è E ho detto tutto Amici miei io oggi vi dimostrerò che io so dove si trova la gemma Lo dissi nella prima run Qua ci sarà sicuramente la gemma invertita Ne sono sicurissimo E basta Allora spero di aver selezionato il livello invertito Non vorrei aver sbagliato Allora dobbiamo prendere tutte le gemme le tre morti va bene Allora Dai ragazzi era troppo palese dai ragazzi Non ha senso Era ovvio ragazzi era palese Ve l'ho detto proprio 10 a 1 ragazzi 10 a 1 era ovvio dai Madonna che bello Questo vuol dire quando giochi tutta la tua vita ai platform E giustamente cominci a trovare Non aveva senso fare quel balcone accessibile Un gioco pieno di muri invisibili Farmi quel balcone accessibile Era palese Che là ci avrebbero messo Guarda Possiamo andare Ah Ok dai Vediamo se riusciamo a fare le tre morti Vediamo se riusciamo a non morire più però Possibilmente Ragazzi ragazzi Vedete il gioco è più velocizzato Mannaglia la puttana Essendo velocizzato Mi cambiano gli input Quindi i salti sono un po' più Diciamo che vado piano Vedete che Atterro tanto avanti Vedete che Non ho preso il burde Sono stato stupido Potevo prendere il burde Non finire nelle rapide Dai Ok Fatto Dai siamo a una morte Raga Qua non ho capito perché Il gioco è bugato E non vi fa fare il doppio salto Se saltate Senza scivolata Quindi preferisco per la scivolata E non vi fa Non vi fa E non vi fa Non vi fa Sì Grazie a tutti Piano, 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 è velocizzata e va un po' più veloce, con calma Non c'è nessuna fretta, non perdiamo il Burdeka che serve nel rush finale Dai ragazzi Meno male, ve l'ho detto il Burdeka che mi serve nel rush finale Signori, fatto! Yes! Dai, due gemme prese, dai E ora lo rigiochiamo prendendo tutto Vai, replay Mamma mia ragazzi, c'ho un occhio comunque Frost l'aspettavi che ti dicevo veramente dove stava la gemma Ho trovato più difficile da trovare la prima che non questa Allora dai, prendiamo tutte quante le gemme Eh, la gemme Sì, la dobbiamo prendere Super Ehm Fa Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Ok. Wow. Fatto. devo evitare di morire perché se non sa cosa per la torri fare faccio esplodere tutto la migliore cosa così non rischiamo di morire pensavo di cadere in acqua vi giuro veramente no in serio questi salti veloci mi cazzarola ok devo essere bello veloce perché qua devo spaccare tutto no guarda quanto ci sto a mettere che sarò bello caloce no guarda no no Ehi, via, eccoci. No, c'è solo un problema, pigliare sto cazzo regolso. Meno male, meno male, meno male, ma collo di far questo, meno male, meno male, me l'accollo, meno male. Ho detto, oddio, devo rifare tutto. Magari, no. Magari, eh? Che dici, magari evitiamo di morire? Dai. Mamma, mamma. Non morire. Andate a fare il culo. Mi chiamavano la mira, la mira infallibile mi chiamavano. Va, 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 va. Va, va. Mi chiamavano un uomo e non fallebbolo. Vai. Buonasera. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello, vai, fatto. Ok, amici miei, fatto. Buongiorno, raghi. Ok, amici miei. Ok, amici miei. Davvero, davvero, davvero. Ok, amici miei. Ok. Ok, amici miei. Ok, amici miei. Ok, amici miei. Ok, amici miei. Non capisco perché se salto da quel doppio salto non me lo fa. Di nuovo me lo fa, non mi fa il doppio salto. Qua non lo fa, però non lo fa, però non capisco perché al nano... Ok, amici miei. Ok, amici miei. amici miei. Amici miei. Ok, amici miei. Ok, amici miei. 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 pure con l'Undega io non ho parole pure con l'Undega io veramente pure con l'Undega Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. L'ultima. Dai, l'ultima, no. Sì, no. Vabbè, qua addirittura ne ho presa una sola. Tre sono quelle che ho mancato. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.